Spendere poco non significa spendere bene ed ecco perché oggi vi elenco la mia selezione di camere per l'estate 2018. Ho introdotto l'episodio con questa affermazione spendere poco non significa spendere bene e questo è vero ma non solo in questo settore ma in tutti i settori. Non è detto che spendere meno per un prodotto significa aver speso bene quei soldi perché è probabile che dovrete buttare quel prodotto per comprarne un altro e quindi avrete speso praticamente il doppio. Ed è per questo che nella selezione di camere che ho fatto oggi ho scelto dei modelli in particolare per tre categorie specifiche e non è detto che queste camere siano di ultima generazione ed appena uscite. Innanzitutto questo video è dedicato più agli appassionati mettiamola così più agli amatori a chi vuole fare travel photography quindi a chi vuole fare le fotografie delle proprie vacanze parliamoci chiaro o meglio ancora a chi vuole dedicarsi a quell'attività o a cominciare a dedicarsi all'attività di fotografia e quindi buttandosi sotto il sole cosciente di questa estate 2018 che si preannuncia essere parecchio 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 ma parecchio calda. Le tre categorie che ho suddiviso sono chi vuole una camera per muoversi tanto quindi fare tanta azione e quindi un action cam una compatta perché non tutti quanti hanno il tempo materiale o la voglia di voler utilizzare più accessori ed infine una mirrorless mirrorless perché ad oggi sono le camere davvero più portatili e che offrono una discreta qualità ormai paragonabile ormai alle reflex. Cominciamo quindi dalle action cam action cam che praticamente è il mercato dominato o almeno lo era fino a poco tempo fa da gopro e quindi io ho provato più camere e presto proverò anche camere di un altro produttore cinese molto conosciuto ma nel frattempo dato che le ho testate alcune camere le ho avute sotto mano io voglio parlare comunque di best buy quindi di prodotti che si trovano che sono di altissima qualità e di altissima affidabilità e quindi la camera che vi consiglio è una GoPro Hero 5 Black. Perché la 5 non la 6? Beh semplicemente perché per le caratteristiche e per il prezzo che ha su Amazon e non solo su Amazon ma anche dai rivenditori locali questa si attesta essere ancora tuttora la miglior action cam con la miglior qualità possibile comunque affidabile con un software molto affidabile e un'app da dispositivi smartphone molto ma molto affidabile e prestante oltre ad una vastissima gamma di accessori originali e non si sta spaccando la mia. Vi consiglio la 5 perché rispetto alla 6 la 6 ha determinate funzioni in più che per chi comincia o che per chi si vuole soltanto divertire in vacanza molto probabilmente non utilizzerà e quindi la 5 diventa perfetta anche perché vi ricordo che a differenza della 4 tra le altre cose anche la 5 ormai si trova anche usata a differenza della versione 4 questa può essere immessa anche senza la cover da immersione fino ai 10 metri e non dovrebbe entrare acqua all'interno quindi diventa un best buy per il prezzo proposto al momento. Seconda categoria passiamo invece alle compatte la compatta è una camera molto più molto utilizzata perché è compatta praticamente in un corpo molto piccolo abbiamo diversi range focali e di determinate possibilità nonché con determinate compatte sul mercato un'altissima qualità video ed audio e video intendiamo sia video che fotografica naturalmente intendo. E quella che mi viene da consigliarvi tra tutte quelle presenti sul mercato considerando che da poco si è rappresentata la mamma di tutte le compatte che è la Sony RX100 Mark VI io vi consiglio di acquistare se la trovate anche usata non per forza nuova una RX100 Mark IV sì perché è fantastica è un'ottima un'ottima compatta tuttora performantissima e naturalmente non costa quanto la RX100 Mark VI non solo non costa di base non costava dall'inizio così tanto ma essendo uscita da almeno 3 anni è un modello che si trova anche a prezzi più inferiori e potete trovare addirittura anche usato. Quindi come compatta che purtroppo ora non ho qui con me vi consiglio quella perché ha un sensore da un pollice stabilizzato registra immagino in 4K c'è la possibilità di impostare l'S-Log quindi di avere un log in camera un microfono decente per chi volesse vloggare o registrare dell'audio ha lo schermo flippabile a 90 gradi ad un'ottica davvero molto completa e luminosa e fa delle ottime fotografie tra le altre cose scatta anche in RAW non c'è nulla non c'è nulla altro da aggiungere è una camera perfetta trovate tantissime recensioni in giro io ve la consiglio ancora tutt'oggi per l'estate 2018 e poi andiamo sulla categoria leggermente superiore ossia le mirrorless come già detto mirrorless perché più compatta di una reflex ma che oggi queste mirrorless le situiscono la stessa qualità di immagine e video e qui ho l'esemplare che vi consiglio questa a differenza delle altre due di cui ho parlato poco fa è uscita da poco e questa è la Canon M50 Canon M50 è la prima mirrorless di casa Canon a portare il 4K a bordo ha lo schermino ribaltabile di ruota di 180 gradi e si richiude naturalmente essendo una mirrorless ottiche intercambiabili con l'attacco proprietario naturalmente di Canon ma per le camere mirrorless e con un adattatore è possibile installare ottiche delle serie Canon con APS-C comunque una gran signora macchina e per il prezzo proposto sul mercato diventa la mirrorless da comprare per quest'estate non voglio entrare troppo nello specifico perché della Canon M50 ne parleremo tra non molto e se stai vedendo questo video dopo la sua uscita e quindi dopo il 2018 dopo il 2018 nel canale trovi la recensione completa della Canon M50 insomma con questo mio reassunto volevo raccontarvi quelle che era la mia personale selezione delle migliori camere da acquistare per l'estate del 2018 quindi camere naturalmente per gli amatori che vogliono divertirsi e che vogliono produrre contenuti che siano video, foto o naturalmente video, foto ed audio tutto insieme trovate il link in descrizione di tutti gli articoli che vi ho citato insomma cos'altro dirvi? se avete dei dubbi o delle domande potete iscrivermi qui sotto a breve ci sarà una piccola novità perché aprirò il mio blog dove di ogni video ne parlerò un articolo dedicato questa è una novità in esclusiva per chi arriva a fine dei miei video sa delle piccole novità se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi perché ci sono sempre tante novità in corso ah naturalmente mi trovate anche sugli altri social specialmente su Instagram dove vi rispondo a tutti i messaggi a tutti i direct quindi cosa altro dirvi? ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video